ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video spero che abbiate passato delle bellissime vacanze di Natale volevo aggiungere con voi questa bellissima Yankee Cat con questo accendino con i cuorescini e volevo fare un po' di rilassamento insieme a voi volevo aiutarvi appunto a rilassarvi perché credo che comunque per quanto per quanto le vacanze di Natale siano belle sono anche comunque un po' stressanti e non c'è niente di male nell'ambiente quindi doniamoci qualche minuto di rilassamento insieme ok ti invito a metterti comodo ovunque tu sia sul letto sul divano su una sedia dove preferisci dove ti senti più rilassato lascia andare tutte le energie negative di stress ansia o magari tristezza che hai accumulato di fatica di non sopportazione qualsiasi sia il tuo sentimento negativo adesso lo prendo e lo faccio sparire adesso torna la pace e la tranquillità torna l'ordine torna l'ordine in casa torna l'ordine nel cuore torna l'ordine nella mente torna l'ordine e non devi più temere nulla torna l'ordine torna la pace torna la tranquillità torna tutto alla normalità per quanto sia bello avere i parenti magari in casa o andare a casa dei parenti per quanto sia bello questo clima festoso ci mette anche molto stress addosso e non c'è bisogno di di negarlo o sentirci in colpa per questo sono sentimenti normali tutti dopo tanti giorni di questo tipo abbiamo bisogno di un attimo di relax e di solitudine per riprenderci per avere del tempo per noi che è sacrosanto il tempo per noi sacrosanto e dobbiamo sempre sempre trovarne un po' a costo di inventarlo sempre trovarne un po' per ritornare come questa fiammella di questa lampada bell'ampada candela per ritornare come la fiammella di questa candela che torna a splendere e a bruciare fuoco di vita senti l'odore della serenità senti l'odore della serenità senti l'odore della pace è tutta per te è tutta per te e adesso riposati a a a a a a a a Grazie a tutti